Salve, mi chiamo Luca Martignoni, 35 anni, da Suzzara, Mantova, attualmente disoccupato e in breve cercherò di esprimere la mia dichiarazione di intenti per il Movimento 5 Stelle. Credo che comunque qualsiasi consigliere e nel mio caso candidato presidente alla regione debba avere delle buone capacità di ascoltare e interagire, cosa che i nostri politici non sanno più fare. Credo che stare qui a spulciare, mettere un elenco di intenti senza consultare la base sia dal mio punto di vista abbastanza democratico e ammetto che ho una passione o chiodo fisso per gli alti comunali e di aver insistito nell'inserimento, della tutela della biodiversità nelle varie coltivazioni della zona. Grazie.